Siamo a Cisternino in provincia di Brindisi e stasera ho il piacere di presentarvi Beppe Convertini e la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Chiarelli di Martina Franca, Roberta Stasera noi siamo qui perché Beppe Convertini presenterà il suo libro I Bambini di Nessuno che è un racconto fotografico relativo alle sue missioni in Siria e quindi è un lavoro interamente dedicato al bene quindi a fare del bene. Infatti io da cittadina martinese non posso che essere orgogliosa di avere come concittadino Beppe perché è riuscito a distinguersi nella società perché si è impegnato a livello umanitario e anche è riuscito a realizzare i suoi sogni senza fermarsi davanti a nessun ostacolo e spesso si è portati a credere Beppe che il successo porti ad offuscare alcuni valori invece in te è avvenuto il contrario, si è amplificato questa tua propensione al bene, a fare del bene agli altri cosa ti ha spinto a dedicarti completamente agli altri? Innanzitutto buonasera, siamo qua per inaugurare la mia mostra, la loro vita non è un gioco che riguarda l'ultima missione che ho fatto in Myanmar, l'ex Birmania per Terre des Hommes e naturalmente il tutto grazie a Roberta Leporati che segue da sempre le mie missioni umanitarie infatti nel libro che poi andiamo a presentare qui a Cisternino i bambini di nessuno si raccontano, è un racconto fotografico, delle ultime tre missioni le due missioni nei campi profughi siriani di Arsala al confine libanese siriano e Zark al confine giordano siriano e Myanmar, quindi in Birmania che è stata l'ultima missione del luglio scorso diciamo che queste sono alcune delle tante missioni che ho fatto nella mia vita tutto quello che faccio lo faccio perché credo che chi faccia il mio mestiere debba mettere a disposizione la propria popolarità, la possibilità di trasmettere al pubblico qualcosa a favore di chi ha più bisogno, quindi diciamo che la mostra come il libro servono a far sì che alcuni drammi di questa terra che spesso vengono dimenticati come la guerra civile in Siria e come anche il dramma di Rowinga che è un'etnia musulmana che viene trucidata e cacciata via in Bangladesh dal regime birmano, insomma si sensibilizzi l'opinione pubblica su questi drammi molto importanti tutto ciò nasce anche dal fatto che ho perso papà quando avevo 17 anni per un tumore con delle metastasi e dei medici volontari che io consideravo degli angeli venivano tutte le sere gratuitamente facendo anche più di 100 km da ogni parte della Puglia a Martina Franca che è la mia città natale e quindi insomma tuo concittadino è fiero di essere martinese per sempre e quindi di conseguenza venivano tutte le sere ad accudirlo non solo moralmente ma anche a curarlo, medicarlo perché aveva anche una metastasi sul viso sanguinante quindi aveva bisogno di continue cure e medicazioni e questa è stata la molla che poi mi ha spinto a dedicarmi al prossimo e da lì tante cose che ho fatto insomma per il sociale sino ad aggiungere alle missioni che insomma saranno protagoniste questa sera qui in questo bellissimo comune di Cisternino che è un posto dove arriva tanto turismo da ogni parte del mondo ma molto vicino al sociale e questo anche grazie a donne come Roberta che credono nel sociale come del resto abbiamo fatto una mostra meravigliosa a Palazzo Ducale a Martina Franca che è la stessa che vedremo questa sera e abbiamo presentato il libro anche naturalmente diciamo in primis nella mia città che è Martina e infatti chi visiterà la mostra di Beppe Convertini si renderà conto che le immagini che lui presenta e che offre a chi le osserverà sono delle immagini davvero emozionanti perché non fanno altro che dimostrare a tutti e mostrare la realtà a tal proposito io voglio chiedere alla dirigente scolastica Roberta Leporati che da poco è stata premiata dal Presidente della Repubblica proprio per il suo impegno nel sociale quanto le mostre realizzate così bene e a scopo benefico possano essere utili nel mondo della scuola quindi quanto possano servire i bambini per sensibilizzarli e diventare cittadini propensi a fare del bene Allora ritengo che intanto ringrazio Beppe questa sera per essere qui io questa sera sono in veste di responsabile del presidio del libro di Cisternino e non potevamo non ospitare una mostra così interessante e questo libro diario raccolta fotografica così come vogliamo chiamarla che è proprio una testimonianza di impegno sociale e civile certo per la scuola come stasera sono presenti le scuole cistranesi con i loro talenti c'è un gruppo che si impegna sulla legalità, c'è il coro della scuola di Cisternino c'è la banda della scuola di Cisternino tutti i ragazzi che hanno fatto della cultura l'impegno sociale per cui la mostra di questa sera così come il libro faranno loro capire quanto è importante aprire la mente e aprire gli orizzonti facendogli ricordare anche di quanto sono fortunati e quanto altri bambini nel mondo hanno bisogno del nostro aiuto e stasera stiamo facendo proprio questo, questa Valle d'Itria che diventa un unico ambiente e che diventa proprio una sorta di testimonianza a favore dell'infanzia diritti dell'infanzia che spesso sono negati io ringrazio i nostri ospiti in particolare voglio ringraziare Beppe per tutto ciò che fa per questi bambini perché davvero sei un esempio per tutti noi grazie grazie a voi grazie a voi grazie Grazie a tutti